Non credo che i fatti degli ultimi mesi attestino difficoltà riferite a forze alleate del PD. Tutto si sta purtroppo incardinando dentro una fortissima dialettica interna al PD che rende complicatissima l'individuazione di una candidatura. Il PD non è un partito pacificato, questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, nessuno ne fa mistero. Deciderà la convocazione per la prossima settimana? Sì, sicuramente la prossima settimana. Direttore, io capisco che devo sapere qualche nome, ma i nomi non ce ne sono adesso in campo, e sceglieremo insieme. L'importante è trovare il modo per ricominciare la discussione se siamo sia programmatico che sul profilo del candidato sindaco. Sono De Coccio, alla prossima riunione cosa concretamente dovrete decidere? Il nome? Tutto bisogna fare un fatto in estrema realtà e affinché politicamente ci sia finché mia tra tutti i soggetti a quel tavolo. Io credo che ci sia da finito mia, però bisogna ripartire in modo compatto e corretto. Fare dei nomi? Ci può essere anche lo spazio per la discussione di qualche nome, però secondo me la premessa è che ci sia la massima compattezza e coesione. Potremmo fare dei nomi se? Vedremo che cosa si tratta del tavolo, insomma, la discussione, che cosa emerge dal dibattito. Grazie a tutti.